Nell'esteriorizzazione di ciò che fate finta di sapere, abituati, convinti a far finta di sapere. Avete capito? Brucio il ritmo, poi vi lascio col fiato corto, poi vi domando cosa ne pensate, cosa ne sapete. Vi mostro due o tre possibili opinioni da applaudire. Segnano il falso specchio presso cui vi presso affinché voi sappiate cosa vi manca, l'ideale amorevole per essere voi stessi che potrete ottenere gratis quasi. Vi specchio quando fate colazione, quando portate a spasso il cane, sono il vostro sapone, la vostra vacanza, sono il malloppo di linguaggio positivo per cui sogno vuol dire amore, che vuol dire leggerezza. Che vuol dire un abbraccio, che vuol dire sì, insieme, che vuol dire sì, che vuol dire sì, che vuol dire sì, che vuol dire gratis quasi. Grazie. Con un sorriso ipnotico ho sottratto il vostro corpo ai sogni per consentirvi di comprarlo. Sono quello che da bambini credevate possibile. Oggi, bambini, mantenete vivi i vostri sogni gratis quasi. Dichiaro chiusa la finestra delle opportunità. No! Mi dispiace. Ma... Ah, è inutile che ti fai venire il mal di pancia. Ma sì, è facile per te. Puoi tornare domani. Sì! Dichiaro aperta la finestra delle opportunità. E ora guardiamo il sole, la meraviglia, i suoi raggi, tutta la sua gloria, la luna, la meraviglia. E guardiamo la storia di Adamo ed Eva e la storia dell'umanità. E arriviamo all'ultimo quadro della nostra pubblica storia, il quadro più triste. Così va l'operaio. Sempre il primo a servire la patria, senza lavoro, senza pane, muore di stenti in una lunga agonia. E dichiaro chiusa la finestra delle opportunità. No! Mi dispiace. Ma io... Ah, è inutile che mi fate venire il mal di pancia. Sì, è facile per te. Beh, potete tornare domani. No! Ah, potessi avere una musa di fuoco che sapesse salire sul luminoso cielo dell'invenzione. Ma come uno sgorbio di cifre serve in breve spazio a rappresentare un milione, così noi, semplici zeri, in questo gran conto, mettiamo in moto le forze della vostra immaginazione? Sì! 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 Grazie. 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 Grazie.